Io non ci sto più a vedere gente che soffre, che perde il lavoro, che si ammazza e questi qui in televisione con queste facce da culo a prenderci di nuovo per il sedere, devono andare tutti a casa, questo è il nostro U. Voglio leggervi una cosa, ecco perché non ce l'hanno, vi leggo questa cosa, la leggo perché sono stato sveglio tutta la notte, vi dico che cos'è, che cosa ho pensato io, questo è quello che sento io, quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne, una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa stato ed entra in Parlamento in soli tre anni, parole guerriere, dal suono nuovo e allo stesso tempo antichissimo.